Da oggi è stato dato il via a Milano alla raccolta delle richieste di quelle famiglie che abitano appartamenti privati e vogliono evitare lo sfratto. L'aiuto è destinato ai cosiddetti morosi incolpevoli, vale a dire a quelle persone che hanno sempre pagato il canone di affitto ma che si trovano in difficoltà, magari per aver perso il posto di lavoro, per trovarsi in cassa integrazione e hanno ricevuto l'ingiunzione di sfratto. I sindacati hanno calcolato che sono 3.000 i nuclei familiari ad alto rischio. Sono stati stanziati 7 milioni di euro, 3,5 dalla regione, 2 dal governo e 1,5 dal comune di Milano. Le richieste vengono raccolte da oggi nei nove consigli di zona. Possono fare richiesta a quelle famiglie che hanno un reddito ISEE fino a 26.000 euro all'anno e hanno ricevuto un atto di intimidazione di sfratto per morosità dove il canone d'affitto incide sul reddito per oltre il 30%. Un criterio preferenziale rappresentato dall'avere nel nucleo familiare un anziano over 70 oppure un minore o un disabile. L'elenco dei nominativi ritenuti idonei verrà poi trasmesso alla Prefettura per la relativa decisione sulla graduazione dell'intervento da parte della Forza Pubblica. Obiettivo è quello di evitare lo sfratto mediando tra proprietario inquilino. Per le domande c'è tempo sino al 30 aprile. In alcuni casi l'aiuto economico verrà dato all'inquilino per saldare l'affitto e in altri al proprietario che sarà tenuto a ritirare lo sfratto. A Milano gli sfratti per morosità sono triplicati negli ultimi quattro anni. La crisi ha allargato drammaticamente la fascia delle famiglie in difficoltà. Al 31 dicembre del 2014 erano circa 9.900 gli sfratti nel capoluogo Lombardo per morosità. 250 famiglie sfrattate si trovano praticamente in mezzo ad una strada.